E' stato riaperto al pubblico il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia con una cerimonia presenziata dal Direttore Generale Musei Massimo Sanna. Presente il Direttore Regionali Musei Molise Enrico Rinaldi, Direttore del Museo Anna Rosa Di Nucci, responsabile del progetto di allestimento Pietrangelo Izio e il Professor Carlo Perretto dell'Università degli Studi di Ferrara. Allora un giorno importantissimo per Isernia ma direi per tutto il Molise perché riapriamo dopo alcuni mesi di chiusura dovuti a un riallestimento di cui si sentiva un gran bisogno il Museo del Paleolitico. Stiamo parlando di un'eccellenza assoluta del Molise, cioè uno dei contesti attualmente considerati come un caposaldo per le conoscenze dell'evoluzione del popolamento di questo territorio in età preistorica. Il museo è stato rinnovato migliorandone l'immagine, i contenuti, le sale espositive, l'area archeologica e le aree esterne. Restituita centralità al giacimento della Pineta focalizzando l'attenzione sulla presenza umana Isernia datata a 600.000 anni fa sulle attività dei gruppi preistorici e sulle relazioni tra uomo, ambiente e fauna. Un allestimento pensato per un'esperienza immersiva dove l'esposizione tipica di materiale archeologico inedito viene combinata a un allestimento scenografico costituito da ambientazioni e ricostruzioni a grandezza naturale di animali e uomo, tali da incrementare la comprensione del patrimonio archeologico e garantire un'ampia accessibilità alla conoscenza. Sono quattro le nuove sezioni museali, evoluzione fisica e culturale di uomo, archeo superficie di Isernia la Pineta, uomini, attività ambienti e animali di Isernia la Pineta e preistoria in Molise. Sono ben cinque anni che ci si lavora su e l'idea nasce dall'esigenza di valorizzare il reperto umano che è stato trovato nel giacimento di Isernia la Pineta. Da quell'esigenza si è partiti poi con una rivisitazione dell'allestimento e quindi il voler riportare alla centralità dell'allestimento museale il sito archeologico di Isernia la Pineta che è una pietra miliare nel campo dell'archeologia preistorica. L'ideazione e la realizzazione del progetto scientifico e museografico a cura dei funzionali della direzione regionale Musei Molise sono stati possibili grazie al coordinamento tra diverse fonti di finanziamento regionali e nazionali. Coinvolta anche l'Università di Ferrara e il suo team di ricerca al coinvolgimento di professionisti, di comprovate esperienze in ambito museale di livello nazionale ed internazionale. Questa nuova realtà fra l'altro consente di meglio comprendere ancora di più cosa sia il paleolitico, questa età molto antica dell'uomo e in questo caso di Isernia risalente a circa 600 mila anni da oggi. È un modo anche per far conoscere al grande pubblico novità, contenuti, parole anche talvolta un po' complesse come potrebbe essere per alcuni il termine paleolitico. Grazie. 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 Grazie.